Un momento molto bello, una ricorrenza importante per la città di Roma, quella della festa dell'Emmacolata e adesso questo è un momento di accensione delle luci che quest'anno vogliono ricordare ciò che accadrà di importante nel nostro paese l'anno prossimo, l'Expo 2015. Infatti accenderemo le 144 bandiere delle nazioni che parteciperanno all'Expo 2015. Buona serata a tutti.